Ciao e benvenuto nel mio canale YouTube a quale ti invito ad iscriverti se non l'hai ancora fatto così non perderai i prossimi contenuti in uscita. Ieri c'è stata la grandissima semifinale della Coppa Davis tra Italia e Serbia. C'è stato nel giro di pochi giorni il terzo incontro tra Sinner e Jokovic e Sinner è riuscito nella grandissima impresa di battere Jokovic, di battere il campione numero uno, quello più forte e veramente Sinner ci sta regalando tantissime emozioni e ci sta dando tante belle soddisfazioni e insomma sappiamo che Sinner il giro di pochi giorni appunto si è confrontato con Jokovic tre volte riuscendo a batterlo due, per bene due volte. Quindi complimenti ancora Sinner, grandissima prestazione la sua, ieri è stata una semifinale pazzesca, veramente da cardiopalma, ci sono state all'interno della partita tante partite con rimonte contro rimonte, veramente una grandissima semifinale. E oggi pomeriggio alle ore 16 ci sarà invece la finalissima della Coppa Davis tra Italia e Australia. Quindi ti raccomando davanti alla tv a vedere questa bellissima sfida facendo ovviamente il tifo per la nostra Italia. Iscriviti al canale se non è ancora fatto, ti raccomando e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!